Ciao e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Siamo in questo filone dedicato a LinkedIn e stiamo parlando in termini un po' alti, forse un po' aziendali. Oggi mi piacerebbe parlarne in termini di persone, in termini nello specifico, come dice proprio il titolo di questa puntata, di dipendenti, per cui i dipendenti su LinkedIn, cosa possono e cosa non possono fare. A tale proposito vi rimando subito a fare un piccolo approfondimento che magari vi servirà dopo la puntata, ma segnatvelo fin da ora. Sul mio canale YouTube c'è una playlist dedicata proprio alla social media policy, per definire quali siano le cose che i dipendenti, a qualsiasi posizione, a qualsiasi livello gerarchico siano, possono e non possono fare, devono e non devono fare e che cosa l'azienda o il datore di lavoro può obbligare o può proibire di fare al dipendente. Questo vale anche per i collaboratori. Quindi ecco, perché è importante parlare di LinkedIn di persone, perché LinkedIn è fatta da persone. Se ci dimentichiamo questa cosa e ci dimentichiamo che esistono delle relazioni che fondano proprio il funzionamento di LinkedIn, ecco che non ne traiamo benefici e che possiamo finire per dire o LinkedIn non funziona oppure, peggio ancora, LinkedIn è pericoloso. E quindi con chi parlare di dipendenti se non con il nostro ospite principale, della, anzi l'unico direi, è un po' come quando dici, sei la mia nipote preferita ma sono l'unica, vabbè, dettagli, quindi il nostro ospite della rubrica HR, Davide D'Ambrogio. Ciao Davide, bentornato. Ciao Gioia, che delusione, che delusione. Pensavo di essere ovviamente l'ospite principale, invece sono soltanto l'unico che si è prestato, va bene, mi accontento. Grazie, bella considerazione. Senti, parliamo di dipendenti su LinkedIn, come dicevo prima, il rischio è che o vadano per scappare, siano su LinkedIn per scappare, oppure siano su LinkedIn e poi magari dicono una stupidaggine, io faccio sempre l'esempio, vanno sotto la pagina di un politico e scrivono le gran parolacce, con però nella propria descrizione, proprio job title, che lavorano presso una determinata azienda o studio professionale. È proprio vero che LinkedIn porta soltanto cose negative? No, assolutamente no. Direi che porta soprattutto cose positive, chiaramente come tutte le cose positive che uno vuole aspettarsi va un po' studiato e va un po' quella positività come risultato deve risultare da un processo, per cui dici bene tu quando dici no, LinkedIn può essere, LinkedIn come qualsiasi social media può essere usato a livello individuale, personale per dire la qualunque, per fare la qualunque e questo chiaramente se io ho sotto il nome di una persona l'associazione con il nome della mia azienda o del mio studio professionale mi crea un po' uno spauracchio. Però francamente è un po' una storia assurda che si cancella da sola perché o io proibisco letteralmente l'utilizzo di uno strumento e non credo che sia possibile poi tu ce lo insegni. Oppure io non ho assolutamente in nessuna maniera il controllo per cui poi succede come è successo di dipendenti, di collaboratori, di aziende importantissime, di istituti bancari internazionali che lo usano per denigrare persone, per i classici haters, no? E scrivendo parolacce, scrivendo cose insomma un po' penose come comunicazione. L'azienda che cosa ha detto a queste persone qua? Ha detto semplicemente non comunicate con i vostri profili, non pubblicate dei post a meno che non siano condivisi, però poi questi vanno e commentano la qualunque per cui il danno è fatto ugualmente. Quindi che cosa vuol dire? Inutile porsi un problema di limitazione di danni se questo vuole essere uno dei problemi che come azienda mi pongo. Inutile anche porsi il problema del collaboratore o la collaboratrice vogliono andare via ed è per questo che scrivono, no? Per creare un proprio personal branding e per attrarre proposte di lavoro. Perché tanto se lo vogliono fare lo fanno uguale. Che sia LinkedIn o sia andando a bussare alle porte, la cosa non cambia. E anche perché questo diventa un po' un preconcetto. Se ci pensi, la gente va su LinkedIn e trova anche un po' il proprio quarto d'ora di gloria anche per cercare un po' un'affermazione personale, no? Per soddisfare quei bisogni che stanno in alto in quella famosa piramide di Maslow, quel triangolino, no? Evidentemente c'è tanta ricerca di questo oggi e siccome in azienda non lo trovo mi permetto di trovarlo un po' di fuori in quello che può essere un social media di lavoro in cui posso andare ad esprimere dei contenuti, delle competenze, dei concetti che ho. E a quel punto il 2 più 2 è facile, visto che ce li hai e che potresti parlare anche a nome dell'azienda e io potrei anche decidere di approfittarne, no? Se la volessi vedere soltanto da una semplice altra prospettiva. Quindi, in sintesi, tu dicevi, no? La paura del collaboratore che vanno via, dei dipendenti che vanno via. Guardiamola anche sotto un'altra prospettiva, cioè lavoriamo perché quella roba lì possa portare beneficio a tutte le parti coinvolte. La paura che possano dire cose che non hanno senso, beh, anche in questo caso lavoriamoci, costruiamo una comunicazione univoca, integrata o comunque condivisa a monte e diventa un po' uno strumento per capitalizzare una comunicazione positiva per l'azienda o per lo studio. Davide, sorrido perché ti sei tradito poco fa. Forse chi mi ascolta sente che sta sorridendo. Ti sei tradito, hai il bias dell'utilizzatore di LinkedIn. Nel senso che tu hai detto le persone scrivono su LinkedIn per attrarre proposte di lavoro. Ti ricordo che è soltanto una piccolissima percentuale di persone quella che scrive su LinkedIn. Le altre persone prendono, si iscrivono a LinkedIn senza scrivere niente, al massimo rispondono alle offerte di lavoro e questa è una cosa decisamente poco controllabile. Però mi è capitato di vedere in datori di lavoro che sono incappati in un proprio dipendente che si era iscritto a LinkedIn e il primo commento è stato ecco, guarda, l'ho vista che si è scritto a LinkedIn sicuramente sta mandando in giro colloqui. Questo non si vede, probabilmente emerge poco come comportamento del dipendente, però può portare a generare la stessa paura. Era interessante però il concetto di comunicazione integrata che hai annunciato brevemente poco fa, a cui hai accennato poco fa. Cosa si intende per comunicazione integrata e di nuovo quali sono i benefici? Perché è proprio qui il punto in cui voglio arrivare con questa puntata. Ma allora facciamo, volendo anche dei casi molto concreti e molto specifici, così vi infori anche qualche strumento interessante. Ci sono diverse aziende su LinkedIn, piccole, medie, grandi, insomma ce n'è di tutto anche studi professionali, piccole agenzie eccetera, che hanno adottato una strategia di comunicazione e veicolazione dei propri valori o delle proprie competenze principali. Per cui le persone che lavorano in queste agenzie, in questi studi, in queste aziende sono stimolate a parlare di questi valori, di queste competenze, certamente non dando un taglio particolarmente personale, quindi non è un'esposizione dei propri valori o delle proprie competenze. È semplicemente un ragionare, facciamo finta che parliamo di comunicazione efficace o di assertività o di lavoro di team, di queste cose che vanno molto in voga. Sono temi che sono un po' a disposizione di tutti, basta una lettura, basta uno studio, una ricerca su Google per avere qualche piccola informazione di cui io posso parlare. Se trovo delle persone che hanno una comunicazione utile su LinkedIn, quindi che riescono ad attrarle, è generare dialogo e dibattito su temi positivi, in cui nessuno si sta esponendo per dare la propria versione dei fatti o per dare dei consigli o cose di questo genere, ma semplicemente sta trattando l'argomento come argomento importante, automaticamente a furia di vederlo fare dal collaboratrice 1, dal collaboratore 2, collaboratrice 3, eccetera, chi legge percepisce che quelle persone all'interno di quelle aziende sono sensibili a quei temi. E il vantaggio è capire che quell'azienda rappresenta quei valori. Ora, detto così sembra tutto estremamente astratto, però nel concreto qual è il beneficio? Il beneficio in realtà è molto, molto pratico ed è, facciamo finta che io sia un'azienda di, un ente di formazione, visto che io mi occupo di formazione, no? è un ente di formazione che vuole vendere i propri corsi online. Posso scegliere di farlo comprando delle sponsorizzate su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, posso scegliere di farlo parlandone, creando dei contenuti che generano il famoso funnel dell'inbound marketing e altre parolacce inglesi del genere. Se lo faccio io da solo, Davide D'Ambrogio, otterrò un certo tipo di risultati. Se a Davide D'Ambrogio si associano quattro collaboratori, cinque collaboratori, e ciascuno volontariamente esprime dei contenuti che abbiano a che fare con i valori che condividiamo, è chiaramente la diffusione dell'azienda, la diffusione dell'ente, dell'agenzia è maggiore per forza di cose. E quindi il vantaggio qual è? Vendo di più. Ora, ho fatto un caso non qualsiasi, perché esiste veramente un ente di formazione online famoso in Italia, è diventato famoso grazie al fatto che le principali collaboratrici sono molto presenti su LinkedIn e parlano di temi legati ai benefici che in azienda vengono portati dalla formazione sui temi che loro usano come corde i loro corsi, quindi sia la comunicazione che sia la gestione dei conflitti, l'intelligenza emotiva, eccetera. Io parlo di questi temi, diffondo il verbo, la gente ne sa, siccome ho trovato una maniera comunicativa carina di divulgare, i miei follower, i follower della mia collega, i follower del mio collaboratore, eccetera, eccetera, portano un bel funnel, un bell'imbuto, il zeppo di potenziali contatti e i potenziali clienti. E questo è chiaramente un vantaggio. Questo vantaggio, vogliamo dargli una definizione di cui oggi non si riesce a fare in meno di parlare, è questo famoso employer branding. Lo chiudiamo in una teca come concetto, perché non è di questo che parliamo oggi, ma l'employer branding ne riceve un contributo mostruoso. Perché? Perché se io oggi faccio fatica a immaginare di andare a lavorare per un'azienda, perché abbiamo scoperto che abbiamo altri valori, abbiamo scoperto che abbiamo altre necessità, altre esigenze, altre priorità, e a tal punto che Amazon, McDonald's, si possono fare questi nomi? Sì, si possono fare tanto, ce la suoniamo, ce la cantiamo, fanno pubblicità in tv. Ora tu non guardi la tv, io ogni tanto la guardo, e ti posso dire che McDonald's sta facendo molta più pubblicità riguardo al percorso di vita che i loro collaboratori dipendenti fanno con le carriere di McDonald's, che non la pubblicità al panino e Bastianice che fa il paninetto di McDonald's. Se McDonald's arriva a percepire questa esigenza di creare questa famosa attrazione verso potenziali candidati e non più clienti, è perché questa attività sta diventando un'attività da marketing. Senza pagare pubblicità televisive possiamo anche utilizzare altri strumenti, studentalizzare LinkedIn da questo punto di vista. Ecco, una piccola spiega veloce veloce, come dicono forse quelli giovani di una volta. Hai usato la parolaccia inglese employer branding. L'employer branding è un'attività che si fa per attrarre i candidati in maniera positiva. Quindi io dimostro quali sono i miei valori, racconto qualche cosa che sta all'interno della mia azienda, insomma mi faccio conoscere affinché siano le persone che vengano da me perché, come si dice in termini un po' più holistici, vibrano sulle mie stesse corde. Però nei momenti in cui si parla su LinkedIn si è un po' così borderline tra l'employer branding, il personal branding e l'ambassadorship, cioè essere ambassador di un'azienda. Quindi qual è la differenza tra l'uno, l'altro e l'altro ancora? Beh, è proprio, allora l'ultima in effetti riassume forse la differenza tra le prime due, cioè quello che possiamo chiamare anche con il termine di employee advocacy, visto che oggi abbiamo voglia di buttare termini inglesi qua e là o americani perché poi nasce più che altro lì. Ed è esattamente la definizione di distinzione, cioè quando io faccio personal branding mi sto occupando di creare un marchio attorno a me, alla mia persona, alle mie competenze, le mie capacità, a quello che io posso portare come vantaggio e utilità a beneficio di un potenziale utente. Quindi che io sia libero professionista o che sia dipendente farò un personal branding legato al caro utente, caro utente finale, grazie alla mia attività tu otterrai questo beneficio e questo è il mio personal branding da libero professionista. Viceversa, da collaboratore, cara azienda, grazie alle mie capacità otterrai questo vantaggio, questo pro e quindi cambia semplicemente la prospettiva. È facile vedere se sto facendo personal branding perché chiaramente a quel punto io parlerò del mio curriculum, dei miei risultati, parlerò delle competenze che io metto in campo per raggiungere e diverso dall'employee advocacy perché l'employee advocacy io mi faccio ambasciatore, come dicevi giustamente tu, della causa dell'azienda e quindi divento un portavoce, un portavoce, dicevamo prima, di valori aziendali, di contenuti aziendali, cioè il discorso qual è? Se io devo chiedere al collaboratore di restare zitto su LinkedIn per poi andargli a dire condividi la foto dell'evento fieristico, ma non se la caga nessuno, cioè è inutile. Se invece il collaboratore io lo faccio lavorare per me, per conto mio, su LinkedIn adottando una comunicazione costante, corposa, studiata, eccetera, il collaboratore non è che è imbrigliato e deve scrivere quelle robe là, ci può mettere anche del suo, però lo fa con un appeal diverso perché ha anche il riconoscimento del dire vabbè ci sono anche io in questa azienda, no? È la mia affermazione, come dicevamo prima, perché sono io che scrivo o il mio quarto d'ora di gloria, che è una cosa che oggi le persone cercano tanto, cercano tanto riconoscimento, no? E spesso in azienda non gli viene dato, perché siamo decoccio, dicono in Germania, Berlino. E quel riconoscimento se non glielo do io ai miei piccoletti glielo darà qualcun altro che poi li rapisce e se li porta via. Allora quindi anche questo ragionamento, no? È un circuito, io devo mettere in piedi una traiettoria per cui grazie a dei valori che sono condivisi, degli obiettivi che sono condivisi, delle volontà che sono condivise, i miei collaboratori, i miei collaboratrici comunicano per me acquisendo sicuramente il loro momento di gloria perché i pollicioni, perché i commenti degli amici, perché il feed che cresce, eccetera, ma allo stesso tempo io ho anche un ritorno inevitabilmente, no? Un ritorno di visibilità, un ritorno di di visibilità piacevole perché se i miei collaboratori scrivono e scrivono di certe cose condivise e sono positive chiaramente evidentemente perché le prendono da papà, no? E quindi la reputation cresce anche in questa maniera qua. Quando io faccio i piani di comunicazione su LinkedIn per le società o per le organizzazioni inserisco sempre una parte iniziale che è quella di valutazione di chi debba essere l'ambassador. Sicuramente c'è, o meglio potrebbe esserci, la pagina che ha i suoi pro e i suoi contro e ci arriveremo. Dall'altra parte non è detto, per forza, ma non è detto in generale che l'ambassador, uno dei tanti o l'unico, debba essere il titolare dell'azienda perché banalmente potrebbe non avere tempo, non avere voglia, non essere tagliato per farlo, potrebbe non essere necessariamente la persona perfetta per parlare sui social. Immaginiamoci, e li ho visti anche, è super cringe, persone di... sto per dire una cosa brutta... avanti con l'età, ok? Facevano dei video assolutamente imbarazzanti, quando magari nelle seconde fila ci sono persone più giovani o più portati in generale, più fotogeniche, come si dice? Videogeniche per i video? Telegeniche, eccolo. Più telegeniche che potrebbero funzionare meglio sotto quel punto di vista. Quindi bisogna capire e anche attribuirsi il ruolo, c'è magari i ruoli, c'è chi magari fa una parte di attività sui social e c'è magari chi fa una parte di attività come public relation nella realtà, nella vita reale, quindi presso convegni, presso incontri, presso altre occasioni di socialità. Attenzione perché questo ragionamento funziona non soltanto per LinkedIn, perché noi parliamo di LinkedIn perché io e te ci siamo conosciuti su LinkedIn e sappiamo... Dio, possiamo dirlo, sappiamo più o meno usare LinkedIn e ci troviamo bene lì e abbiamo creato la nostra community. All'interno di uno studio, all'interno di un'azienda potrebbe esserci anche qualcuno che è bravissimo a creare una community e crea un gruppo Facebook che... spacca! Potrebbe anche essere qualcuno che è in grado di gestire una pagina Instagram oppure un proprio profilo Instagram che cresce e che quindi dà lustro alla persona e contemporaneamente all'azienda. Ce ne sono di aziende che parlano direttamente ai giovani e fanno ben poca comunicazione istituzionale, ma tantissima comunicazione che si è istituzionale, travestita da personale o viceversa. Per cui c'è una persona che è proprio una persona, un dipendente, una persona che lavora all'interno dell'azienda, che si riprende e che fa cose, anche non direttamente legate all'azienda, ma che suscitano interesse. Ecco, queste sono valutazioni da fare, però quello che mi preme è uscire da questa visione in bianco e nero per cui il capo è su LinkedIn e ne parla in maniera ingessata, tutti gli altri stanno zitti, stanno dietro perché è chissamai cosa succede. È chiaro che questo tipo di relazione, questo tipo di comunicazione deve essere studiata a monte, attenzione perché anche un capo, anche un titolare potrebbe fare scivoloni, potrebbe scrivere cose brutte, ne è pieno l'internet di queste cose veramente vergognose. Quindi va studiata, va capito dove si vuole arrivare, con chi ci si vuole arrivare e come. Dopodiché io sono per la libertà gestita bene, quindi social media policy, formazione, tantissima, tantissima formazione alle persone, soprattutto su LinkedIn, perché LinkedIn ha, dicevamo, una sua etichetta, funziona come community e io ho un po' percepito che ci vuole poco a fare lo scivolone, entrare, fare un commento negativo nei confronti delle altre persone, una critica, un qualche cosa di brutto in generale e si è tagliati fuori. Al contrario, più ci si sa comportare all'interno di questa community e più funziona. Quindi tutta questa formazione che deve essere fatta più volte in maniera continuativa sia agli esistenti sia alle new entry. Tu che sei un formatore, concordi? Decisamente sì, decisamente sì perché ha l'occasione appunto di assicurarsi che tutti si sia sulla stessa linea a livello comunicativo ma anche valoriale, no? Cioè, visto che oggi parliamo tanto di selezioni, di difficoltà, di ricerca di persone, di attrazione di persone che abbiano lo stesso mindset aziendale. Oggi veramente è un disastro queste parolacce. Questa diventa un'ulteriore occasione. Quale terreno migliore di formarsi su come comunichiamo all'esterno? Che poi alla fine noi parliamo di LinkedIn, ma questa è la trasposizione virtuale e digitale di qualcosa che esiste anche nel mondo fisico e reale. Perché se ci pensi, come dicevi tu, non deve essere per forza il pater familias. Cambiamo lingua. Il Domino. Il Domino. Ecco, sì, certo, il Domino nel caso di uno studio legale o comunque il titolare nel caso di un'agenzia, di qualunque forma di organizzazione lavorativa. Perché se ci fai caso, lì sfociamo nel campo della delega. Quindi a quel punto che faccio? I clienti? No, ci parlo soltanto io perché voi non si sa mai che cosa gli dite e stacci a parlare con 1750 clienti tutti insieme. E che faccio? Controllo? Vi tengo lì a fare, a battere soltanto a macchina e a mettere insieme, a mettere a posto i faldoni e non vi faccio esplorare altro? Non creo rotazione di competenze? Punto primo. Punto secondo, tornando alla domanda sulla formazione. E qui mi incazzo. No, perché la settimana scorsa io parlavo... Siamo passati a francese, Davide. Sì, siamo passati a francese, all'alto atesino. La settimana scorsa, due settimane fa, parlavo con appunto il titolare di una piccola impresa. Che mi riferiva a questo discorso del lasciare che le collaboratrici, i collaboratori parlino a nome loro, dell'azienda, della paura di cosa possano esprimere e di che cosa possa arrivare al mercato, eccetera, eccetera. E poi contestualmente su un altro discorso mi diceva, io queste persone le voglio far crescere, però sai, noi siamo questi, arrivi ad un certo punto e ti devi fermare e non sai che cosa fargli fare. Ma io ti spezzo le corna, cioè vogliono crescere, vogliono riconoscimento, le vuoi far crescere? Abbiamo parlato in passato dei piani di crescita, purtroppo non tutti possono dare promozioni, aumenti, come se nulla fosse. Ma lì c'è un'occasione, c'è un'opportunità, imparo a scrivere, imparo a comunicare. Poi la stessa persona, tra l'altro, e lì gli ho veramente spezzato le corna, nel senso che mi sono messo a ridere, non vuole più pagare dei social media manager, perché secondo lui fanno, eh ma cappero allora, scusami, fai uno più uno più uno, se non è tre, c'è un problema. Quindi vedi come poi tutto torna, no? Parliamo di delega, la delega vale anche sui social. Parliamo di social media management, di pubblicità e di advertising e probabilmente riesci a fare anche meglio risparmiando su determinate attività date in esterno, se controlli meglio quelli all'interno. Quindi a volte ci facciamo dei fori al cervello cercando di capire come non esternalizzare, perché tutto ciò che è fuori non riesci a gestirlo e poi ti imponi degli autolimiti, degli autogol internamente, quando quella è una cosa molto più gestibile, più processabile. Fermo restando e sottolineo quello che dicevi tu, che non è che a questo punto io do carta bianca, scrivete quel cavolo che vi pare. Io starò sempre comunque lì vigile, perché giustamente poi se le persone comunicano a nome mio o anche dell'azienda e qualcuno, insomma, fa della comunicazione non esattamente efficace, io devo intervenire, devo stare a guardare. Ma è molto più facile se abbiamo strutturato un percorso insieme e altrimenti come faccio io a vedere che cosa si dice di me, che cosa fanno quando parlano della mia azienda e dei miei collaboratori? Punto di domanda. Sì, tutto torna. Tu parlavi prima di comunicazione integrata, c'era l'avvocato Scavizzi che parlava in generale di sistema integrato. È chiaro che una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, ma per, visto che stiamo parlando di proverbi e loghi comuni, per spezzare una lancia a favore invece delle agenzie di marketing e di comunicazione, è vero quello che dici tu, cioè un soggetto esterno non è detto che sia tanto efficace quanto lo potrebbe essere un soggetto interno, quindi quello esterno ha le competenze magari di scrittura, di orario di pubblicazione, grafiche e tutta una serie di altre competenze più tecniche, più verticali. Ma chi può parlare di meglio può parlare meglio di me rispetto a me, ok? Quindi è chiaro che sia fondamentale essersi allenati a creare un qualche tipo di input, di storytelling, di racconto dall'interno verso l'esterno. Altrimenti l'agenzia di comunicazione costa un sacco di soldi, pubblica dei post che sono assolutamente sterili, che sì, volendo probabilmente raccontano qualche cosa che sì, se lo leggi un po' come l'oroscopo magari è adattabile a quella realtà, ma è pur sempre una società esterna che all'interno modello studio professionale o della società che vuole comunicare non ci vive. E quindi benvenga questa collaborazione, questa commissione tra il personale interno che suggerisce, scrive, abbozza delle idee, prova a comunicare e poi un supporto da parte esterna che conosca determinate altre regole, come appunto dicevo, gli orari di pubblicazione, la SEO e tutte quelle competenze tecniche che vadano ad integrare, giusto perché la parola integrato sta diventando un po' il leitmotiv insieme a comunicazione, che vadano ad integrare quello che fa la persona interna. Eh, beh sì, giusta, giustissima la distinzione, no? Quindi non è che le agenzie di comunicazione non servano, però è proprio un lavoro diverso. Oltre al fatto che, permettimi di dire, se hai un problema con le tue persone che comunicano in qualsivoglia maniera, e quindi nello specifico su LinkedIn, vuol dire che hai un problema di fiducia probabilmente. Se hai un problema di fiducia vuol dire che nella tua realtà non si respira un buon clima. E quindi automaticamente se i tuoi collaboratori non scrivono su LinkedIn, io verrò a chiederti che clima si respira nella tua struttura aziendale. Facciamoci due conti, perché anche questo potrebbe essere un sintomo, no? Di intervento, di necessità di intervento su qualcosa che non sta funzionando. Te ne do altri due. Da quando io scrivo su LinkedIn, in generale ho il mio blog e il podcast, quindi stiamo parlando da metà 2020, i miei post che hanno più successo in termini di visualizzazione e interazioni sono legati a due argomenti. Il primo è la gestione del tempo e il secondo è la delega. Quindi quando tu inizialmente hai detto le persone non si sentono valorizzate, vogliono esprimere delle competenze che internamente non sono considerate, è proprio vero. E quindi gestione del tempo e delega sono un pochettino, se vogliamo, legate l'una con l'altra perché magari io non delego bene alle persone o sono confusionario e quindi le persone non riescono a organizzarsi e a gestirsi il proprio tempo o dall'altra parte vorrebbero fare di più e sono imbrigliate, sono legate, sono impossibilitate ad esprimere ciò che vorrebbero. E quindi che cosa fanno? Si rifugiano in una comunicazione che è esterna all'azienda. La speranza vuole che sia positiva anche per l'azienda e non soltanto, cosa che sarà comunque, per il dipendente perché? Perché altrimenti vuol dire che l'azienda ha perso un talento e sarebbe un gran peccato. Soprattutto di questi tempi perché rimpiazzarli non è solo un costo ma è anche una fatica mostruosa, quindi sì, decisamente sì. Fatica e costo e qui torniamo a tutto l'onboarding dei dipendenti, quindi lascio la scheda qua in sovraimpressione vediamo se indovino dovrebbe essere qua, credo, forse qua, insomma qua in alto per chi sta vedendo su YouTube, per tutti gli altri la puntata onboarding sempre della rubrica HR con Davide D'Ambrogio. Bene Davide, io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, io di nuovo ti ringrazio di essere stato ospite del podcast di Consulente.pro. Grazie a te. Io do il consiglio di arrivederci a tutte le persone che ci guardano su YouTube, su Spotify e che ci ascoltano su tutte le altre piattaforme di podcast, ci vediamo e ci sentiamo nel corso della prossima puntata. Mi sa che, no, non cambiamo ancora argomento, rimaniamo sempre in ambito LinkedIn, in ambito comunicazione tra virgolette aziendale, se vogliamo. L'arrivederci è anche sempre nel canale Telegram, quello che ho citato all'inizio, ma stavolta per davvero, perché se avete domande o avete approfondimenti o volete sapere esattamente, Davide, a chi volesse spezzare le corna, potete fare la domanda diretta nel canale Telegram, sicuramente vi risponderà. Quindi ci vediamo, ci sentiamo o cercatemi sui social, io sono Gioia, Odrie Camillo. Alla prossima, ciao!